Cresce e si amplia il rapporto che vede impegnata la città di Pesaro con il mondo universitario. La prima grande novità presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in comune è rappresentata dalla collaborazione dal lavoro congiunto dell'Università Politecnica delle Marche e quella di Urbino per l'avvio del nuovo corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Il nuovo percorso di studi avrà sede a Pesaro nei locali che ospitano le lezioni del corso di infermieristica, il quale a sua volta vedrà un incremento dei posti disponibili per le iscrizioni da 65 a 75. Il nuovo corso magistrale socio-sanitario avrà invece a disposizione 30 posti e gli insegnamenti saranno svolti da docenti provenienti da entrambe le università. Le università sono un bene pubblico, non devono competere fra loro ma semmai devono collaborare e noi ne siamo un esempio. Questo corso è un corso di laurea magistrale che consente a chi si è già laureato nelle triennale, ad esempio in fisioterapia, in logopedia e altre ancora, di continuare nei due anni successivi e specializzarsi proprio nella gestione, non solo su aspetti tecnici. Infatti come abbiamo sentito nella conferenza stampa vengono affrontate anche tematiche multidisciplinari e in tal senso l'Università di Urbino, che ha delle competenze specifiche, collaborerà e i docenti dell'Università Poetecchia delle Marche collaboreranno con i docenti dell'Università di Urbino. È un'offerta che è una collaborazione per un'offerta formativa che va a favore del territorio, in particolare della nostra provincia, ma ovviamente non solo perché poi le iscrizioni saranno aperte anche a studenti di altre province, però è importante perché appunto sancisce una collaborazione tra gli Atenei e quindi una collaborazione che cerca di integrare le risorse specifiche di Urbino con quelle di Ancona. Come ho detto nella conferenza stampa, noi siamo capaci di fornire docenti che nell'area della pedagogia, della psicologia, in ambito giuridico e anche di quello sociologico, quindi ci fa molto piacere. Ripeto, spero che sia l'inizio di una collaborazione che cerca di sfruttare queste opportunità e buone volontà che ci sono in questo momento tra i rettori. Oltre al rinnovo dell'accordo quadro tra il Comune di Pesaro e l'Università Politecnica delle Marche, è stato poi presentato il nuovo indirizzo nautico del corso di laurea triennale in Sistemi Industriali dell'Informazione, un nuovo curriculum dedicato al settore della cantieristica navale, per il quale la provincia di Pesaro e Urbino metterà a disposizione alcuni dei suoi spazi per lo svolgimento delle lezioni, mentre la realtà imprenditoriale del cantiere Rossini sarà a disposizione per le attività pratiche e di tirocinio previste dal corso. Entrano a far parte di questo progetto anche la provincia e anche le imprese del nostro territorio, perché parliamo del corso professionalizzante che va ad aggiungere, oltre al curriculum di meccanica ed elettronica, viene aggiunta la nautica. Quindi abbiamo la partecipazione anche del cantiere Rossini che ha dato disponibilità e anche la provincia entra a far parte di tutto questo progetto per le aule che serviranno i prossimi anni. Il potenziamento su Pesaro è un'opportunità non solo per Pesaro, ma per tutto il territorio, per i nostri ragazzi che studiano, per le nostre imprese e anche andiamo a formare i ragazzi nello specifico in quello che il territorio ha bisogno, perché tutto questo progetto nasce da un confronto continuo con le aziende del nostro territorio. In tutto questo ci voglio dire, lasciatemelo dire, che lo scorso anno quando siamo partiti che si pensava che fosse solo un atto politico, quest'anno con i fatti rispondiamo che diamo un'opportunità non da poco per tutto il territorio di Pesaro. Quindi l'unione fa la forza, questa università ha unito due colori politici, il territorio e anche tutti gli enti che ne fanno parte.